Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Giovanna Melandri, presidente del Museo Maxi di Roma, buonasera Mattia Santori, uno dei fondatori delle Sardine, buonasera bentornato Beppe Severnini, vice direttore editorialista del Corriere della Sera e buonasera Giovanni Soldini, uno dei più grandi velisti in solitaria di tutti i tempi. Allora, il coronavirus, è inutile ricordarlo, ha stravolto completamente la nostra vita privata ma anche quella pubblica che prima della pandemia aveva trovato proprio nelle Sardine un nuovo protagonista. Come cambia ora la nostra agenda politica? Subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Mattia Santori, allora ci eravamo lasciati che eravate protagonisti della politica italiana soprattutto in chiave anti Salvini, poi siete praticamente spariti, quindi che cosa fanno le Sardine al tempo del coronavirus? Potete sopravvivere senza le piazze? Mi stupisce il fatto che sembra che siamo spariti perché non è assolutamente così, siamo ben presenti e abbiamo semplicemente deciso di fare meno rumore perché è un periodo storico che richiede molto molto rispetto e forse più silenzio, più operosità. È chiaro che noi siamo nati per portare corpi fisici e per attraverso i nostri corpi fisici dare un segnale e questo momento di separazione di corpi fisici per noi è un momento molto molto difficile. ci stiamo reinterpretando, ne stiamo approfittando per ricostruirci, riorganizzarci all'interno e ci stiamo preparando per quello che sarà il futuro perché comunque il futuro da quello che si capisce in questo momento sarà un futuro molto difficile e ci sarà bisogno di una grande forza democratica dal basso, ci sarà bisogno di aiuto. Beppe Severnini l'ha detto anche adesso Mattia Santori, le sardine nascono per mobilitare le piazze, trovarsi tutti assieme stretti stretti come le sardine per l'appunto. Gli assembramenti ora sono vietatissimi ma molto probabilmente lo saranno ancora per molto molto tempo. Tu che futuro vedi per le sardine? Quello che ha detto Mattia Santori è di buon senso, cioè le sardine, l'idea proprio delle sardine è di stare tutti insieme stretti stretti, ecco una cosa che non possiamo fare è stare tutti insieme stretti stretti, cioè c'è proprio una contraddizione in termini e non è che loro possano cambiare nome e farsi chiamare i pesci, i pesci spada che per esempio sono dei pesci che vanno o solitari o in coppia, però capisco che per loro è nata in un altro modo, però non è che li voglio consolare ma sto cercando di ragionare. Io ho la sensazione che la cosa che ci sta succedendo stia mettendo, rivelando la verità sulle persone, sulle relazioni, sulle professioni e anche sui movimenti, quindi è un momento decisivo anche per loro perché alla fine l'era del dilettante è finita. Non mi capisca male Santori, non gli sto dando dei dilettanti, dico che vale così per tutti e dovunque, diciamo che per loro che erano molto nuovi e molto giovani l'esame di maturità è venuto prima, però lo dovranno affrontare e quindi capiranno, non lo possono sapere, non lo sanno neanche loro, immagino. Cosa saranno fra un anno? Questo è un passaggio decisivo, però ripeto vale per le sardine, che è un movimento politico, che ha fatto le cose che sappiamo, vale per tutti, vale per le organizzazioni sindacali, vale per i partiti politici, vale per noi professionisti, Lilli. Io credo che questo sia il momento in cui non si può più bleffare in nessun campo, in nessun campo. L'era del dilettante è finita. E verrebbe da dire, per fortuna, che è finita l'era dei dilettanti, ma insomma anche di chi può bleffare. È d'accordo Giovanna Melandri, lei ha fatto politica per tanti anni e di movimenti politici, ne ha visti nascere, morire, scomparire. Che idea si è fatta a lei delle sardine? Le posso chiedere, lei personalmente, siccome è tantissimo tempo che non la vediamo in televisione, come sta vivendo questo momento così difficile? Ma intanto io sono molto d'accordo con Beppe Severnini, questo è il tempo di superare ogni forma di dilettantismo. È un tempo nuovo, è un tempo che ci interpella tutti. Io penso che è un tempo, qualcuno ha scritto degli audaci, dei coraggiosi, degli innovativi, dei creativi, di chi saprà portare a terra, al di là delle retoriche, soluzioni innovative. È il tempo di chi ha fiducia nella scienza, di chi ha fiducia in uno spirito imprenditoriale orientato alla transizione ecologica, ambientale, energetica. Cioè questo virus ci ha colto, che noi stavamo già ragionando su tutti questi temi e oggi è un acceleratore. Ha ragione ancora una volta Severnini, io sono d'accordo con lui su questo. Cioè io penso che i partiti, i movimenti, ma forse anche i giornali possiamo dire, che sopravviveranno bene a questa pandemia, a questa crisi epocale, saranno quelli che sapranno dare un contributo positivo, costruttivo, concreto nella ricostruzione. Le sardine saranno tra loro, io me lo auguro naturalmente, ma questo vale per loro, vale per i sindacati, vale per i partiti, vale per le istituzioni culturali, nessuno si può chiamare fuori. Senta, dottoressa Melandri, come sta vivendo lei personalmente questo momento? Lei va tutti i giorni al museo Maxi che lei dirige e presiede, oppure sta a casa? Come vive questo momento? No, io sto molto a casa e vengo al museo Maxi, da cui adesso sono collegata una volta, massimo due volte a settimana per obblighi anche appunto formali, devo firmare delle carte, l'istituzione deve andare avanti. Gli oltre 100 dipendenti, lavoratori, lavoratrici, collaboratori stanno tutti, stiamo tutti facendo questo grande apprendistato dello smart working, abbiamo anche deciso in solidarietà di mettere in cassa integrazione i guadagni quelli che possono, insomma stiamo cercando di gestire una situazione non facile, ma devo dire che questo apprendistato è anche un'esperienza molto interessante, questo apprendistato tecnologico online, perché abbiamo scelto, ci siamo chiesti che cosa potessimo fare, no? Aspetti, però questo me lo racconta tra cinque minuti, perché prima vorrei interpellare Giovanni Soldini. Lei in questo momento di emergenza, lei che è abituato alla solitudine, al confinamento, è il bellista in solitaria, uno dei più grandi del mondo, che cosa ci può dire, che cosa ci può consigliare e che cosa pensa che la politica dovrebbe imparare da questo momento? Ma io direi che innanzitutto è molto diverso essere in qualche modo in quarantena a casa e fare quello che tutti dobbiamo fare, cioè cercare di non aiutare questo virus ad andare in giro, quindi stare a casa, mentre invece quando si sceglie di fare un oceano in barca anche da soli è in qualche modo una scelta, una scelta libera e anche un patto che si fa con la barca, per cui ci sono un sacco di cose da fare per andare nell'altra parte dell'oceano e lo si fa da soli per una questione così tecnica quasi. Direi che questa esperienza per me è totalmente diversa invece, è un'esperienza che mi ha fatto pensare molto perché in qualche modo è come se la natura si fosse un po' ribellata alla presenza dell'uomo così vorace rispetto in realtà al pianeta e anche certe immagini che si sono viste magari su internet eccetera del fatto che di colpo ci sono gli animali in giro per le strade, l'inquinamento è calato moltissimo in pianura padana e in molti altri luoghi. Insomma è un percorso difficile che stiamo affrontando credo, è molto drammatico anche, però è quello che ci aspetta in qualche modo. Speriamo di sconfiggerlo e anche di imparare a giustare un po' il tiro sul nostro modo di vivere forse, di consumare. Dobbiamo giustare sicuramente il tiro, Santori, sicuramente la politica deve aggiustare il tiro, in parte lo ha già fatto. Per quello quando lei ha detto che Giorgia Meloni e Matteo Salvini in questo momento sono patetici, ho pensato che forse un attacco così duro appartiene quasi a una politica del passato, non di questo momento drammatico, anche perché voi siete nati invitando con urgenza la politica a moderare il linguaggio. Perché un giudizio così duro? No, probabilmente il termine è stato inappropriato e avremmo dovuto usare inopportuni. È un momento in cui si rivelano i politici per quello che sono e si rivelano anche i movimenti per quello che sono, perché a noi ad esempio è stato chiesto tante volte di intervenire o di dire la nostra quando in verità non avevamo bisogno di farlo. Noi abbiamo lanciato una raccolta per la protezione civile ed emergency che si sta chiudendo bene, siamo già a 35 mila euro raccolti, arriveremo a 40 mila, però l'abbiamo fatto in una maniera totalmente, cioè non per dimostrare qualcosa ma perché dal basso ci veniva chiesto di farlo. E in un momento in cui, come diceva Severnini, bisogna un po' tornare alla responsabilità, un po' a rispettare i propri ruoli, credo che non sia un caso che Conte ne stia uscendo bene perché ha un senso di responsabilità del buon padre di famiglia che le persone percepiscono, cioè capiscono che pur negli errori, pur nella fretta, pur nella confusione, capiscono chi davvero sta lavorando per il bene del Paese. Quindi a lei la convince l'azione del governo Conte in questa fase o sono stati fatti troppi errori all'inizio, ci sono errori della comunicazione? Ma premetto che in un periodo come questo, in un periodo di emergenza nazionale, i governi non vanno giudicati ma vanno aiutati, qualsiasi governo sia, e sicuramente sappiamo che il governo sta affrontando una crisi che, l'abbiamo già detto tante volte, è una crisi che non si vedeva da decenni, probabilmente dal dopoguerra, e tra l'altro si trova a guidare una macchina che non hanno scelto loro, nel senso che il sistema statale per come adesso, la mancanza di uno Stato centrale forte, la mancanza di una popolazione responsabile, perché comunque non dimentichiamoci che noi stessi per primi abbiamo complicato le cose, lo hanno complicato chi ha diramato i decreti prima del previsto, nel senso che lo ha complicato chi continua a tirare la giacchetta per avere un favore in più o una visibilità in più, quindi comunque in una situazione così difficile credo che stia facendo tutto il possibile e credo che la direzione sia giusta. Senta Santori, però non ci ha spiegato perché Lameloni e Salvini sono patetici o inopportuni, che cosa non hanno capito i sovranisti di questa crisi? Intanto vorrei ricordare che il giorno prima che si scoprisse il primo caso in Lombardia, Salvini minacciava di denunciare il presidente della regione della Toscana perché non aveva rinchiuso i cinesi, non aveva bloccato i cinesi, non so bene che cosa dovessero fare i cinesi e quindi facendo capire che era assolutamente inopportuno rispetto al momento, poi alla stessa persona che dichiarava di apriamo tutto, apriamo tutto in un momento in cui era già evidente la comunità scientifica si era già espressa e non perde né lui né Lameloni occasione per rimarcare degli errori o delle sviste o delle parole, anche solo l'ultima circolare del Ministero dell'Interno è stata analizzata e criticata e sollevata non solo da loro ma da diversi governatori, è come se si dovresse fare la caccia al pelo nell'uomo, in un momento così io personalmente lo trovo inopportuno. È d'accordo Giovanna Melandri e lei che giudizio dà dell'operato del governo Conte e anche del comportamento delle opposizioni? Guardi io penso che ci sia un capitale di fiducia nella scienza, nelle competenze e anche nelle istituzioni che è uno dei fatti nuovi di questo momento, di questo anche dramma, è un capitale prezioso che va curato e il governo ne sta beneficiando, io penso anche meritatamente, penso anche però due altre cose, la prima è che oltre all'emergenza sanitaria drammatica, è dolorosa dentro cui siamo tutti immersi, però c'è un altro virus che il governo deve contrastare velocissimamente e questo virus è il virus della povertà. Io ho lateralmente contribuito all'elaborazione di una proposta che si chiama Bridge, elaborata da economisti, imprenditori, giuristi molto importanti che è sul tavolo, noi dobbiamo iniettare liquidità velocemente se non vogliamo che se ne venga giù il sistema produttivo e non solo delle imprese piccole, grandi, medie, ma anche del terzo settore, delle imprese sociali, perfino delle imprese culturali. Questa è una prova a cui il governo è chiamato velocemente nei prossimi giorni e credo che dovremmo valutare e giudicare il governo su questo. È chiaro che la cornice, ne avete parlato tanto anche ieri sera, è quella dell'Europa, dell'apertura di linee di credito che devono caratterizzare questa stagione. Delle mosse importanti sono state fatte dalla BCE e dalla Commissione con le risorse di 100 miliardi per la Cassa Integrazione Europea, ma c'è bisogno di immediatamente iniettare liquidità nel sistema, negli operatori economici, imprese piccole, grandi, terzo settore. Non dobbiamo risvegliarci tra quando sarà, non voglio dire settimane, mesi, non sta a me dirlo, ma quando ci risveglieremo e quando usciremo dalla crisi dall'emergenza sanitaria non possiamo avere un sistema produttivo in macerie. Ecco, questa è una prova importante per il governo e penso anche che il governo possa dare dei segnali immediati anche a quelle aree di fragilità estrema del Paese. Io penso, noi siamo tutti a casa, restiamo a casa, ma c'è gente che la casa non ce l'ha. Ci sono gli immigrati irregolari che stanno raccogliendo i pomodori per portare il cibo sulle nostre tavole e che sono irregolari. Ci sono i senza fissa di mori. Come? Mancano molti immigrati, molte persone che per l'appunto provvedano al raccolto. Appunto. Abbiamo anche su questo fronte varie io volevo solo sentire un attimo Severnini perché quando Giovanna Melandri dice che ci vuole che il governo intervenga subito immettendo liquidità appena le prime attività potranno essere riaperte che appunto nessuno è in grado di dire quando questo sarà. Probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo e ci vorrà ancora molta pazienza. Il problema è che tutti hanno bisogno di liquidità. Giovanna Melandri ha citato alcuni settori, ne potremmo citare ancora molti altri. Per il governo Conte si profilano dei mesi difficilissimi? Si profilano dei mesi difficilissimi. Ieri il Presidente Monti l'ha detto qui, l'ha ricordato che Conte era inesperto. Cioè quando è arrivato in politica veniva dall'insegnamento universitario. Setter è come un comandante, lo metti su una nave e si becca l'uragano del secolo. Non è facile neanche per lui, questo dobbiamo ricordarlo tutti. Io credo che i mezzi ci siano. Adesso è inutile ripetere ancora una volta che di fatto per tutte le novità, gli acquisti dalla Banca Centrale Europea, la sospensione del patto di stabilità, l'ultima decisione della Fonderlain, adesso vediamo cosa dice il Consiglio, sul fatto che le nostre casse integrazioni sono garantite. I soldi ci sono, bisogna farli arrivare in maniera precisa e chiara. A me della faccenda IMSS 600 euro, al di là di quello che abbiamo detto ieri, che chi non ne ha bisogno non deve chiederli. Ripeto, lo Stato non è una vacca da mungere, soprattutto in questo momento. Però bisogna farli anche arrivare in maniera chiara. A me di quella faccenda ha preoccupato, come si dice, la poca prudenza. Era evidente che tutti sarebbero buttati, non tutti, ma moltissimi sul sito dell'IMSS. Allora, stabilite chi ha bisogno. Fatevi aiutare dalle varie organizzazioni professionali, da Confindustria per la parte, da Confagricoltura, da Confcommercio. Stiamo tutti remando per una volta, per una volta, nella stessa direzione. La fatica e l'umiliazione di dover ricorrere dei soldi indispensabili, quella il governo deve risparmiarcela. Non voglio fare esempi, ma ci sono molti esempi, i giornali ne sono pieni, di meccanismi, diciamo, della nostra amministrazione e burocrazia che non hanno capito che questo è un tempo completamente nuovo e le regole vecchie non vanno più, non vuol dire sbaraccare tutto, vuol dire essere elastici. Io conosco tanta gente improvvisamente elastica e ne ho grande ammirazione anche nell'amministrazione, sto vedendolo qui in Lombardia da tanti, i comuni e Compagnia Bella, vedo gente che sembra non capire, è come se non li riguardassi. I soldi ci sono, fateli arrivare in maniera chiara, caro governo, chiedete aiuto, tanti ve lo daranno, vi dicono come fare anche. Giovanni Soldini, secondo lei sta facendo bene questo governo? Ma io non sono né un politico né un giornalista, per cui io penso che sì, diciamo che la sensazione è che ci sia dell'impegno e della serietà. Ma vede il Premier Conte da un punto di vista umano affidabile? Ma guarda, io devo dire la verità, anche guardando gli altri governi, i governi europei, degli stati a noi vicini, la Francia, la Spagna, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, francamente non mi lamenterei, da modesto marinaio quale sono, credo che non siamo cascati così male alla fine. Santori, quando si dice che bisogna intervenire, bisogna intervenire presto, bisogna intervenire bene, ci vuole tanta liquidità, è vero che l'Europa si è svegliata, l'Europa c'è su tanti fronti, c'è una discussione che non è poi neanche di oggi, ma era già cominciata prima della pandemia sul MES, quindi sul fondo Salva Stati, Salvini ha detto in serata che fare uso del MES sarebbe un crimine contro gli italiani, qui vede insomma il linguaggio, siamo sempre con le parole forti, anche qui trovare una giusta via di mezzo, perché con l'Europa dobbiamo trattare, non tutti siamo d'accordo su tutto e quindi cosa dobbiamo fare e cosa dovrebbe fare questo governo? è vero che con questa Europa, almeno per come si sta rivelando, è difficile trovare e costruire degli accordi basati sulla fiducia e quindi non si sa mai, c'è sempre la percezione che la solidarietà che oggi ti viene data la pagherai in futuro e a caro prezzo ed era la stessa sensazione, io vivevo in Grecia quando c'è stata la crisi che ha colpito soprattutto la Grecia ed è una sensazione simile, cioè i cittadini hanno molto l'impressione di svendere parte del paese perché non si fidano, quindi da una parte c'è chi non vuole prestare i soldi, dall'altra parte c'è chi non si fida delle condizioni in cui vengono prestati questi soldi, però esattamente come in Grecia un'attività su cui noi sardine saremo molto presenti è la solidarietà, cioè la solidarietà che non viene solo dall'alto verso il basso ma può anche andare dal basso verso l'alto e anche orizzontalmente, quello che sta dimostrando la popolazione italiana e lo dico con cognizione di casa perché quasi tutte le sardine sono attualmente impegnate nei territori è dimostrare che dove non arriva lo Stato, dove fisiologicamente non può arrivare allo Stato e quindi a bussarti alla porta di ciascuno può arrivare un vicino di casa, può arrivare un volontario, può arrivare un anziano di un centro sociale, può arrivare anche un partito, può arrivare un qualsiasi, c'è veramente un concetto di solidarietà e anche a livello di tassazione, a livello di fiscalità, a livello di ricostruzione dell'economia dovremmo chiamare tutto con la parola di solidarietà, la parola solidarietà, perché chiamarla patrimoniale? La patrimoniale non è altro che un patto di solidarietà, è un prestito di solidarietà perché se io sono più ricco e sono molto ricco e do l'1% del mio patrimonio per chi sta peggio, è un qualcosa che mi tornerà indietro, ma anche se non sono ricco perché la patrimoniale potrebbe essere per tutti, ma se la chiamassimo prestito di solidarietà probabilmente le persone sarebbero meno reticenti da questa parolona patrimoniale, semplicemente un prestito di solidarietà che mi tornerà indietro perché se il mio concittadino starà meglio e si riprenderà, oltre a non andare dai camorristi che gli fanno l'usura, tornerà a stare meglio e starò meglio anche io in quanto concittadino e questo andrebbe allargato all'Europa tutto. Senta, quindi le sardine sono a favore di una cosiddetta patrimoniale? Sì, ma credo che, ripeto, andrebbe chiesta a tutti, in senso andrebbe chiesto l'1% a tutti per fare un fondo di garanzia che permetta questo microcredito di cui parlava la Melandri prima, che fosse garantito dallo Stato ma anche dai cittadini stessi, perché altrimenti torniamo al solito problema. dove non arriva lo Stato, dove non arriviamo noi, arriva la mafia, arriva la criminalità organizzata, arrivano le false promesse, non possiamo perdere cittadini, non possiamo perdere compagni di viaggio. Giovanna Melandri è una buona idea questa patrimoniale civica e lei con il suo museo Maxi, che ovviamente ha chiuso i battenti, ha però aperto le porte virtuali, che cosa significa? Sì, allora due cose, il credito immediato, la liquidità nel sistema degli operatori economici, sociali, terzo settore, imprese va dato subito, quindi io credo che oggi lo Stato deve garantire questa linea di credito immediatamente, appena appunto se ne crolla il sistema produttivo, sociale italiano. L'idea della patrimoniale o comunque l'idea di uno strumento, di un veicolo finanziario di solidarietà, in realtà qualcosa di simile io avevo scritto e proposto in un articolo pubblicato qualche giorno fa su Corriere della Sera, pensando alle macerie e al collasso che potremmo raccogliere è finita l'emergenza sanitaria, è finita la pandemia nel sistema culturale, perché il rischio per tutti quegli operatori che oggi hanno chiuso e quindi l'idea di creare dei fondi, dei fondi anche finalizzati di scopo con risorse dei cittadini, con quello che si può essere sostenere il sistema culturale italiano, ma un grande fondo di investimento ad impatto, impact investment, per la cultura italiana per esempio, o per il welfare di comunità, o per i sistemi di cura. Mi dica solo perché ci farebbe bene in questa situazione di emergenza fare una visita online al suo museo, rapida. No, ma noi abbiamo offerto qualcosa di più che una visita online, abbiamo proprio costruito un palinsesto di contenuti culturali che offriamo online a chi resta a casa e devo dire è stato stupefacente, noi abbiamo avuto più di 7 milioni di contatti in questi giorni, ci siamo chiesti appunto che cosa potevamo fare per dare un contributo e usare questo tempo costruttivamente, abbiamo chiesto agli artisti, agli architetti di produrre qualcosa di nuovo, quindi c'è la visita, c'è la possibilità di vedere la storia delle mostre che il Museo Nazionale ha ospitato negli ultimi dieci anni, ma c'è anche una linea di riflessione, abbiamo deciso, siamo diventati un piccolo gruppo editoriale e il nostro titolo è il mondo nuovo, vogliamo pensare il mondo nuovo attraverso gli occhi, ovviamente degli artisti e degli architetti, ma anche degli scienziati, dei filosofi. Quindi se andiamo sul sito del Maxi possiamo cominciare a vedere qualche cosa di questo mondo nuovo. E sui nostri social. E sui vostri social. Grazie. Santori, voi avete appena pubblicato il libro Le Sardine non esistono, pubblicato da Einaudi, siccome le sardine continueranno ad esistere, da quello che lei ci ha detto questa sera, quale sarà la grande novità che emergerà da questa fase di riflessione che state avendo? Telegrafico. Saremo molto più organizzati, perché noi siamo nati senza sapere che stavamo nascendo e quindi in qualche modo questo periodo ci permette di trovare una struttura e quel libro ci ha servito per fissare la chiusura della prima fase, come avevamo detto il 26 di gennaio si chiudeva una fase ed essendo stata una fase capitanata da quattro amici volevamo in quanto amici fissare un po' le origini, da quelle origini si ripartirà ma si crescerà e ci sono le basi per ripartire, abbiamo una competenza e un capitale umano che è molto difficile da spiegare Allora, in bocca al lupo, ma tanto ci rivedremo qui in televisione. Giovanni Soldini, lei è uno dei volti della campagna di Amref sul diritto all'acqua in Africa dove il coronavirus si sta diffondendo, perché è così importante in questo momento donare al 45583, vediamo il cartello, telegrafico Beh, come potete immaginare è un momento molto difficile per tutti, ma per l'Africa è sicuramente un momento fondamentale. Il diritto all'acqua, l'accesso all'acqua pulita è sicuramente la chiave per potersi difendere un minimo da questo virus e credo che questa campagna sia molto molto importante. So benissimo che in Italia ci sono situazioni drammatiche. Amref Però aiutiamo anche chi sta in Africa con la campagna di raccolta fondi per il diritto all'acqua Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché ne abbiamo parlato stasera ne ha parlato molto anche Giovanna Melandri il problema dei fondi della liquidità ed è un problema con il quale tutti dovremmo fare i conti Poche secondi di buccia a quel punto Sirti, azienda delle TLC con oltre 4.000 dipendenti anticipa i soldi della cassa integrazione Luxottica versa ai cassi integrati la differenza con lo stipendio pieno anche Nestlé e San Pellegrino garantiscono la paga normale a chi deve stare a casa Sono numerose le aziende che si preoccupano di non far mancare ai dipendenti il necessario Alcune lo ostentano Altre lo fanno e basta In molti casi è decisivo il sindacato in altri non occorre negoziare Nelle generali ristrettezze chi ha un lavoro dipendente o una pensione può ritenersi un privilegiato Per la grande maggioranza dei lavoratori autonomi la chiusura delle attività ha invece conseguenze drammatiche come dimostra l'assalto al sito dell'Inps per ottenere quell'una tantum di 600 euro che per milioni di persone non è un'integrazione al reddito ma in questo momento è l'unico reddito possibile C'è l'Italia delle partite IVA commercianti e artigiani innanzitutto ci sono coltivatori diretti mezzadri, coloni lavoratori stagionali del turismo lavoratori dello spettacolo liberi professionisti avvocati, architetti, geometri, medici psicologi, giornalisti i potenziali aventi diritto all'assegno statale sono più di 5 milioni e questa mattina oltre la metà aveva già fatto domanda la mancanza di liquidità rischia di diventare letale anche per un numero crescente di piccole e medie imprese che sono il cuore del sistema Italia non si fattura non ci sono incassi nessuno paga più nessuno la soluzione dicono a Confindustria è che lo Stato garantisca e che le banche prestino alle aziende l'equivalente di almeno 3 mesi di fatturato mancante con denaro a costo zero da restituire in 30 anni misure eccezionali per un'economia allo stremo Allora siamo in chiusura grazie Giovanna Melandri quindi andate sul sito del Museo Maxi e anche sui social troverete molte iniziative interessanti grazie Mattia Santori ricordo il nuovo libro Le Sardine non esistono pubblicato da Einaudi grazie Giovanni Soldini Campania Amref diritto all'acqua in Africa ecco qui e grazie spettatrici e spettatori in linea a Diego Bianchi al suo propaganda live tra gli ospiti ci saranno ci saranno Enrico Letta Beppe Severnini ti avrei quasi dimenticato di salutarti no invece saluto anche te grazie perché siamo molto in ritardo grazie mille linea a Diego Bianchi al suo propaganda live ci saranno Enrico Letta Zero Calcare Joe Squillo e molti altri quindi state con noi e soprattutto state a casa rispettate tutte le restrizioni noi ci vediamo come sempre domani otto e mezzo e teniamo duro arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti